Ogni anno il 14 giugno tutti i paesi nel mondo su iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità celebrano la giornata mondiale del donatore di sangue. L'evento viene promosso per ringraziare i donatori volontari per il loro regalo salva vita e per far crescere nella popolazione la consapevolezza della sempre crescente necessità di donazioni regolari con l'obiettivo di assicurare la costante disponibilità del sangue e dei medicinali plasma derivati per la cura dei pazienti che ne hanno bisogno. A Pescara questa mattina l'assessorato alla sanità ha spiegato come sia più che mai importante donare il bilancio del 2020 nella nostra regione ha retto all'impatto della pandemia da covid-19 per quanto riguarda le donazioni è stata garantita l'autosufficienza di sangue anche se è sceso il numero dei donatori. Oggi si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale del donatore di sangue ed è una giornata in cui tutti sono impegnati i governi e le regioni a celebrare questo momento proprio per richiamare l'importanza del dono del sangue e il ruolo dei donatori di sangue che grazie al loro gesto salvano le vite. Questa è una cosa fondamentale. Il bilancio dell'autosufficienza in Abruzzo in corso di pandemia è un bilancio positivo perché noi siamo riusciti a garantire i bisogni trasfusionali di tutti i nostri cittadini, di tutti i nostri pazienti. Sono state trasfuse oltre 60.000 unità di globuli rossi, sono stati prodotti e distribuiti oltre 100.000 confezioni di farmaci plasma derivati che anche questo è fondamentale per la cura di tante patologie come le immunoglobuline, l'albumina e i fattori della coagulazione e abbiamo assistito oltre 13.000 pazienti. Quindi il dato è estremamente positivo. Un dato positivo, ma per chi volesse per la prima volta avvicinarsi al mondo della donazione, cosa deve fare e dove deve rivolgersi? Si può rivolgere alle nostre associazioni che collaborano su tutto il territorio regionale, l'Avis, la Fidas, la Croce Rossa, l'Ado Silanciano e la Fratres e alla rete trasfusionale pubblica che è su tutto il territorio regionale.